Arrivano i primi profughi ucraini in provincia d'Egrigente. Ad ospitarli sarà il comune di Montevago grazie alla disponibilità di cittadini che hanno messo a disposizione gli alloggi. La regione siciliana organizza l'accoglienza. La guerra in Ukraine al centro della nuova puntata di Vespere in onda da oggi sulla nostra emittente, toccanti le testimonianze di Anastasia, donna ucraina che vive nella paura, e di Nadia, giovane russa che condanna l'invasione. La Sicilia da lunedì prossimo in zona bianca, nonostante i numeri del contagio rimangano alti, proseguono i controlli per il rispetto delle regole ancora in vigore. A Sciacca chiuso un locale per cinque giorni e multati i titolari. Campagna di vaccinazione agli sgoccioli a Sciacca e lab di Contrada Perriera dalla prossima settimana sarà operativo solo la mattina. Ridimensionata anche l'attività del centro vaccinale pediatrico all'ospedale di Contrada Seniazza. Non solo problemi per la viabilità a causa della chiusura dell'arteria, in via Lido a distanza di quattro mesi non sono stati ancora del tutto rimossi, fango e detriti. Analoga situazione allo stazzone e nella zona del Can Salamone. Caro Bollette, non solo le famiglie e le aziende in crisi, anche i comuni che non riescono a far fronte con i propri bilanci agli aumentati costi energetici. I sindaci lanciano il grido di allarme si rischia di lasciare le città al buio. Ben ritrovati in una nuova edizione di RMK Notizie. Previsto a giorni l'arrivo dei primi profughi ucraini nell'agrigentino. Partirà a breve da Montevago un pullman carico di prodotti alimentari, indumenti e medicine in direzione Polonia e tornerà con a bordo 45 persone ucraine in fuga dalla guerra. Donne e bambini saranno ospitati nel piccolo centro bellicino dove diversi cittadini hanno già messo a disposizione le loro abitazioni. C'è il servizio. Un pullman carico di prodotti alimentari, indumenti e medicine partirà da Montevago in direzione Polonia e tornerà con a bordo 45 persone ucraine in fuga dalla guerra. Donne e bambini saranno ospitati nel piccolo centro bellicino dove diversi cittadini hanno già messo a disposizione le loro abitazioni. L'iniziativa denominata Un cuore per l'Ucraina è promossa dal comune di Montevago in collaborazione con l'associazione di volontariato a cuore aperto che si farà carico delle spese per il viaggio dei profughi e per l'acquisto di medicine e altre associazioni del territorio. Punto di riferimento per le operazioni di identificazione tramite le autorità ucraine il parroco polacco Don Sebastian Kondizior per diversi anni cappellano ospedaliero al Policlinico Tor Vergata di Roma. Oggi nei locali della biblioteca comunale il sindaco di Montevago ha fatto il punto della situazione con l'aggiunta e le associazioni coinvolte nell'iniziativa. L'iniziativa è nata dal vedere la tanta sofferenza che dalla Polonia arriva. L'associazione a cuore aperto si è subito mobilitata cercando avendo la possibilità di avere sul territorio informazioni dirette per capire se era possibile consentire lo spostamento di un gruppo di persone per una zona più serena lontano dalla guerra. Il comune di Montevago ha raccolto immediatamente questo tipo di invito e abbiamo lanciato un appello ai nostri concittadini a che mettessero a disposizione degli appartamenti liberi arredati possibilmente e devo dire la generosità non si è fatta attendere. Ad oggi abbiamo otto appartamenti disponibili di altre tante famiglie che ce li offrono gratuitamente, mentre il comune inizialmente aveva detto che era disponibile anche a pagare un affitto, ma ce le hanno date gratuitamente. Ancora una volta lancio l'appello se ci fosse qualche altra famiglia che si vuole unire è ben accolta, anche perché non sappiamo poi questi ucraini che arriveranno come sono organizzati e come sono disposti. Noi pagheremo ovviamente le bollette, mi sembra il minimo e faremo trovare a questi ucraini un'accoglienza che deve avere il sapore della famiglia, il sapore della solidarietà, il sapore dell'affetto e del calore. Ho parlato col prefetto, ho delineato come si svolgerà questa accoglienza e ovviamente abbiamo concordato le tappe che devono esserci dalla quarantena dei cinque giorni che dovranno fare questi ospiti alla comunicazione sia all'ASP che alla questura per poi avere tutta la documentazione dall'STP a tutto il resto per poter essere in regola ed esserci quel tracciamento che serve per avere tutto in regola. Si può ancora contribuire donando generi di prima necessità in medicine, in particolare cibo in scatola, carne e pesce, barattoli di conserve, tonno, cioccolato, frutta secca, latte, cibo per bambini, biscotti, merende, succhi di frutta, pane e panini a lunga scadenza, salumi e formaggi sotto vuoto, caffè e tè. Poi ancora pannolini, traverse, antinfiammatori, antipiretici, bende, siringhe, antidolorifici, vitamine, è possibile consegnarli dal lunedì al venerdì all'Asilo Nido, l'Albero delle Dee e nei locali della Proloco di Montevago. Intanto per sostenere l'accoglienza dei profughi ucraini nel centro belicino è già partita una raccolta fondi sul conto corrente del comune di Montevago. Ancora solidarietà al popolo ucraino, anche l'associazione Orazio Capurro, amore per la vita Ollus, ha aderito alla raccolta di beni di prima necessità promossa dalla sezione Anfi di Sciacca, consegnando questa mattina alcuni farmaci disinfettanti, pannolini ed omogenizzati. Un contributo donato con il cuore, un gesto di solidarietà, dichiara il presidente dell'associazione Alessandro Capurro, a favore di persone che stanno vivendo un momento di grandissima difficoltà. L'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia, preseduta da Franco Zerilli, è impegnata da diversi giorni nell'attività di solidarietà al popolo ucraino. La sezione Saccense, in corso Vittorio Emanuele, si sta mobilitando per la raccolta di farmaci di primo soccorso, generi alimentari di prima necessità e vestiario invernale. A livello regionale, intanto, è stata realizzata su iniziativa del governo musumeci Sicilia per l'Ucraina, una piattaforma online per raccogliere e mappare i servizi e le disponibilità per l'accoglienza dei cittadini ucraini. Ce ne parla Noemi Tummiolo. Una piattaforma online per raccogliere e mappare i servizi e le disponibilità per l'accoglienza dei cittadini ucraini. Si chiama Sicilia per l'Ucraina ed è stata realizzata dal governo musumeci tramite l'ufficio speciale immigrazione per consentire agli enti pubblici e privati, alle associazioni e ai singoli cittadini, di specificare la tipologia di aiuto che si può offrire per contribuire ad accogliere in Sicilia chi fugge dal paese interessato dal conflitto. Basta compilare una semplice scheda disponibile online, raggiungibile anche attraverso un apposito QR code. L'iniziativa rientra tra le attività messe in campo dal coordinamento per l'accoglienza dei profughi ucraini presieduto dal presidente della regione nello musumeci in qualità di commissario delegato, così come stabilito dall'ordinanza della protezione civile nazionale del 4 marzo scorso. Con questo strumento agile e veloce, spiega Musumeci, possiamo riuscire a ridurre i tempi e avere una maggiore conoscenza delle opzioni a supporto di quanti arriveranno nella nostra isola fuggendo dall'inferno delle bombe. Lo mettiamo a disposizione di tutta la macchina dell'accoglienza impegnata in questa attività, dalle nuove prefetture agli enti locali fino alle associazioni di volontariato. La solidarietà dei cittadini è sotto gli occhi di tutti, continua Musumeci, e il governo regionale è impegnato per coordinare al meglio tutti gli interventi ed offrire l'abbraccio della Sicilia ai cittadini ucraini. Nell'ambito delle azioni coordinate dalla protezione civile regionale, l'assessorato alla famiglia, politiche sociali e al lavoro della regione siciliana ha reso possibile la centralizzazione e la messa a sistema di tutte le attività territoriali interessate dall'accoglienza. Questa piattaforma, afferma l'assessore Antonio Scavone, è una soluzione rapida e innovativa che ci consentirà di avere a disposizione una gran mole di informazioni. E abbiamo dedicato la nuova puntata di Vesper in onda da oggi sulla nostra emittente alle testimonianze di persone legate col cuore, con la mente e con gli effetti più cari alla guerra Russia-Ucraina. Ospiti di Massimo D'Antoni, una donna ucraina e una russa, oltre alla polacca Aga Gavroska, che ha organizzato la raccolta di solidarietà di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi. Sullo sfondo del dibattito una tragedia e le esperienze private, quella di Anastasia, una donna ucraina che ha parlato delle sue paure del fratello arruolato nella resistenza e quella di Nadia, giovane russa che non condivide l'invasione di Putin e che per queste sue idee è stata costretta, per ragioni di sicurezza, ad interrompere ogni rapporto con la sua famiglia a Mosca. Vi proponiamo una breve anticipazione tratta dalla trasmissione di Massimo D'Antoni. Signora Anastasia, qual è la sua emozione guardando le immagini di questi giorni, su quello che sta succedendo? È difficile, difficile spiegare quello che provi perché, specialmente nelle ultimi giorni, quello che sta succedendo, scusate, c'è da una parte una rabbia, una rabbia incredibile per quello che stanno facendo i soldati russi. Dall'altro lato c'è una sensazione di paura per tutti i miei familiari, tutti i miei amici, tutta la vita che troverò per un giorno ritornando lì nel mio paese anche per una vacanza. Lei ha detto a mio fratello, ho capito, si è arruolato, no? Ho capito bene? È andato nella difesa territoriale, è quello che fanno adesso tutte le città, stanno costruendo una specie di protezione lì, proprio all'entrata della città, per fare un controllo, chi entra, chi esce, per controllare la situazione. Possiamo chiamarla benissimo resistenza. Vorrei chiederle, lei è più orgogliosa di suo fratello o è più la paura che prevale sul sentimento dell'orgoglio? No, è più paura perché non ha mai tenuto le armi nella sua vita, non sa usarli. Per quanto può essere magari bravo a difendersi così come uomo, ma non è addestrato, come un militare che ha fatto un esercito, un anno in esercito? Non posso comunicare con la mia mamma in questo momento perché la mia posizione è in pericolo e per questo adesso abbiamo fermato un po' i contazzi. Scusi, può spiegarmi meglio questo passaggio? Cosa temete, in buona sostanza, che lei si trovi in un altro paese, possa creare delle tensioni a livello di forze di governo? Sì, perché praticamente per la mia posizione, che sto dicendo che sono contro la guerra, in Russia, adesso sono le persone non grata, quindi non mi faranno entrare e per le aiuti anche piccoli che sto facendo per Ucraina da qua, se torno in Russia adesso mi arresterebbero e la mia mamma rischia di perdere il suo lavoro. Che tipo di aiuti lei sta dando alle persone ucraine? Abbiamo fatto qua da Grigento un'asta di arte organizzato con l'Accademia delle Belle Arzi, ho partecipato anch'io con le mie opere e le abbiamo venduto delle opere per poi donare questi soldi ad Ucraina. Ho fatto anche la donazione privata alla Croce Rossa di Ucraina e stiamo cercando i posti per i rifugiati, i posti sicuri, poi effettivamente quando arriveranno qua stiamo cercando anche logisticamente come organizzare questo, aiuterò come traduttrice, magari faccio qualche aiuto con i documenti, ho molti amici a Milano che hanno fatto la raccolta dei vestiti, li stavo mettendo in contatto tutti tra loro perché conosco li comunque, tante gente mi stavano chiedendo dove posso portare, cosa posso portare, come posso aiutare. Questi bambini veramente vivono un momento super difficile perché stiamo uscendo dalla pandemia, i bambini erano a casa, adesso vivono la guerra, anche i bambini qua in Italia guardano queste immagini e loro percepiscono anche questa situazione. Fatto umano, sì perché noi parliamo dei governi, però fatto umano anche il popolo russo-ucraino viveva bene, in senso che noi vogliamo pace, essere umano non vuole lottare penso, solo i governi, c'è questa rabbia pure che non riusciamo a fermare la dittatura. Cala l'attenzione sul Covid ma non i controlli da parte delle forze dell'ordine finalizzati al rispetto delle regole ancora in vigore. La Polizia di Stato ha effettuato ieri sera un mirato servizio nella città di Sciacca con numerosi controlli sia nelle zone periferiche che del centro storico, focalizzando l'attenzione soprattutto nelle strade interessate da un elevato numero di passanti ed avventori in prossimità di piazze e locali di intrattenimento. Nel corso delle attività sono stati eseguiti cinque controlli amministrativi ed altrettanti esercizi commerciali quali bar, pub e ristoranti. In uno di questi è stato verificato che i due titolari all'interno non indossavano la mascherina di protezione e pertanto sanzionati al pagamento di 400 euro e di 3.000 euro. Il locale è stato chiuso per cinque giorni. Non solo il Covid, la Polizia ha esteso i controlli a Piazza Duomo per le auto parcheggiate in zona pedonale 18, le contravvenzioni elevate. Sono 78 emigranti che la notte scorsa su due diverse imbarcazioni sono stati soccorsi dalle motovedette della Guardia Costiera di Lampedusa. Sulla prima, di circa 7 metri, intercettata a 24 miglia dall'isola, c'erano 35 saariani, fra cui 15 donne e un minore accompagnato. Sull'altra, bloccata a 23 miglia, c'erano invece 43 egiziani e bengalesi. I due gruppi sono stati portati all'hotspot di Contrata Embriacola, dove gli ospiti presenti sono complessivamente 140. Modifiche momentanee alla viabilità a Sciacca. A partire dalle 7 del mattino di lunedì 14 marzo sarà istituito il divieto di transito in via Figuli, nel tratto compreso tra il distributore di carburante Eni e il Civico 3, e in via Licata, nel tratto compreso tra la piazza Saverio Friscia e la via Molinari. La chiusura è necessaria per lavori indifferibili di manutenzione straordinaria delle vie Figuli e Licata nei tratti appena citati. La riapertura avverrà a conclusione dei lavori, che si spera possano concludersi in maniera celere il prima possibile. La Sicilia da lunedì prossimo tornerà in zona bianca, nonostante il numero ancora elevato di contagi, soprattutto tra i giovani. La provincia di Agrigento è tra quelle in cui il virus circola maggiormente. Sentiamo. Anche la Sicilia da lunedì prossimo sarà in zona bianca. Solo quattro regioni italiane rimangono in zona gialla, anche se ormai nulla cambia in termini di restrizioni, posto che già da tempo è stato eliminato l'obbligo della mascherina all'aperto. Peraltro, la prossima settimana il Governo dovrebbe ufficializzare il torgramma delle riaperture a partire dal 31 marzo, giorno in cui cesserà lo stato di emergenza, e da tempo appare ormai scontato che verrà archiviato il sistema dei colori per indicare le zone più o meno a rischio. L'ordinanza che pone la Sicilia in zona bianca a partire dal 14 marzo è stata firmata ieri pomeriggio dal Ministro della Salute Roberto Speranza, nonostante i numeri del contagio nell'isola rimangano ancora alti. Anche l'Istituto Superiore di Sanità ieri ha certificato che in Sicilia anche questa settimana si è registrato un 126% di casi giornalieri in più rispetto alla settimana precedente e con meno tamponi effettuati. Un trend, quello della risalita dei contagi che in realtà riguarda tutta Italia, ma la Sicilia è stata spesso in testa alla classifica giornaliera delle regioni per numero di nuovi contagi. Regge la situazione negli ospedali, al di sotto della soglia critica l'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive ed è questo il dato rilevante che ha consentito il passaggio in zona bianca. Rimane alto invece il tasso di occupazione dei posti letto in degenza ordinaria, supera la soglia del 20%, seppure l'incremento dei contagi non abbia finora determinato una forte pressione sulle strutture ospedaliere dell'isola. A livello provinciale sono Agrigento, Messina e Ragusa quelle che registrano la maggiore circolazione del virus e sono soprattutto le fasce più giovani della popolazione quelle interessate a questo incremento di casi. Proprio ieri il commissario dell'Asp, Mario Zappia, ha parlato di una settimana, quella che ci stiamo lasciando alle spalle, da dimenticare sia per nuovi contagi sia per numero di ricoveri. Campagna vaccinale agli sgoccioli a Sciacca, pressoché vuoto lab di Contrada Perriera che da lunedì prossimo sarà aperto solo la mattina, seppure tutti i giorni. Intanto non ha riscosso grande interesse il nuovo vaccino a disposizione, quello della Novavax. È pur vero che la città di Sciacca ha già raggiunto percentuali di vaccinazione da record. Abbiamo fatto il punto con uno dei due responsabili della struttura, il dottore Umberto Indelicato Oliva. Maria Genuardi Le lunghe code anche sotto il sole cocente sono ormai un ricordo. La campagna di vaccinazione anti-covid Sciacca ha raggiunto percentuali da record. Ormai da giorni il lab di Contrada Perriera è pressoché vuoto. Da lunedì prossimo infatti verrà ridimensionata l'attività degli operatori in servizio nella struttura. È una curva in discesa quella che stiamo vivendo come persone da vaccinare perché già abbiamo vaccinato circa il 96% di soggetti con vaccinazioni complete e si è aggiunta la novità della diffusione del contagio fra i minori, fra i bambini, anche in età scolare e questo ha causato un'ulteriore diffusione nell'ambito delle famiglie che ovviamente assistono questi ragazzi, questi bambini e con una positività che comunque fa diffondere l'immunizzazione ad un'altra fetta di popolazione che avrebbe comunque occupato il nostro lab vaccinale. Quindi chiaramente l'immunità di cregge si può anche interpretare in questo modo. Da lunedì quindi in quali orari sarà possibile venire qui al lab a vaccinarsi per quanti ancora devono magari fare la terza dose? Praticamente hanno ridimensionato l'orario di servizio. 9.14 tutti i giorni della settimana saremo operativi per la vaccinazione anti-covid. È stato ridimensionato anche il servizio della vaccinazione pediatrica che avverrà nei locali dell'ospedale dalle 9 alle 13 tutti i giorni ad eccezione del martedì in cui sarà soltanto l'orario pomeridiano dalle 14.30 alle 18.30. Come sta andando in questi ultimi giorni? Vediamo un hub pressoché vuoto ma era normale. Quante vaccinazioni ormai vengono effettuate giornalmente? Il calo era, e non l'ordine delle cose, giusto per la grande mole di vaccinati che è stata fatta prima, siamo mediamente su 50-60 vaccini al giorno. Siamo a personale completo, aspettiamo ma è un po' una cosa, diciamo un'interpretazione personale, un ridimensionamento del servizio del personale stesso. Tra le novità c'è il fatto che al lab di Sciacca è già disponibile da giorni il nuovo vaccino, l'ultimo, quello della Novavax. Un vaccino era stato detto che avrebbe potuto invogliare più scettici, più reticenti quelli che avevano contestato questi vaccini sperimentali. Come è andata? Ma guardi, diciamo la voglia di utilizzare questo vaccino era una specie di scusa, secondo me, dei Novavax che aspettavano sempre l'ultima novità per poter poi decidere la loro vaccinazione. Non si è vista questa affluenza, nemmeno giocando sul nome che forse poteva essere pure un'approssimazione verso il loro modo di vedere o di interpretare la vaccinazione. In ogni caso abbiamo a disposizione 200 dosi, noi segniamo la disponibilità alla scelta di questo vaccino e chiaramente essendo flaconi di 10 dosi noi dobbiamo cercare di non sprecare e utilizzeremo i flaconi stessi per 10 soggetti quando li avremo registrati. Chi vuole può richiedere questo vaccino? Cosa devono fare? Devono venire qui al lab? Richiederlo e chiaramente programmare la vaccinazione in una giornata in cui avremo i 10 soggetti da vaccinare. Non è ancora chiaro il futuro del lab vaccinale della Perriera. Molto probabilmente si manterrà una struttura più piccola magari all'interno dei locali dell'ospedale di Contrada Seniazza. Intanto dall'emergenza Covid si sta passando a quella dei profughi ucraini con i servizi sanitari locali già allertati per l'eventuale accoglienza ma soprattutto per l'assistenza sanitaria che dovrà essere garantita a partire dalle vaccinazioni. Siamo stati allertati dall'ASP per effettuare sia i tamponi ma anche la vaccinazione. Ci risulta che la nazione da cui stanno fuggendo in tanti è tra quelle meno vaccinate in un senso lato cioè il 35% della popolazione ha la vaccinazione anti-Covid per cui dovremmo provvedere eventualmente noi a tamponare questa mancanza. Sicuramente avremo le dotazioni per poterlo fare. L'unica cosa che faremo è metterci a disposizione registrando questi soggetti come STP stranieri temporaneamente presenti e questa è una legittimazione sul Servizio Sanitario Nazionale che ci consente poi fisicamente la registrazione delle schede della vaccinazione. Abbiamo l'obbligo di ospitare, oltre che di vaccinare per quanto riguarda il nostro servizio di ospitare i minori e di registrarli al Servizio Sanitario Nazionale perché questa è un'incombenza che non è nata adesso è stato già deciso da tempo e noi accoglieremo i minori stranieri come se fossero i nostri. Sono trascorsi esattamente quattro mesi dalla funesta alluvione dell'11 novembre che mise in ginocchio la città di Sciacca ed i segni di quel giorno sono ancora ben visibili in città in particolare lì dove la furia dell'acqua ha trascinato di tutto tra la zona del Lido, dello Stazzone e del Can Salamone di questo e di altri esempi di incurie ed abbandono in cui versa la città ci occupiamo nella consueta rubrica dedicata alle vostre segnalazioni. Vediamo Sono trascorsi esattamente quattro mesi dall'alluvione dell'11 novembre quella che i saccensi ricorderanno ancora per anni come una data funesta in cui come è noto la sorprendente quantità di pioggia caduta ha fatto straripare i corsi d'acqua presenti in città mettendo in ginocchio diverse zone di Sciacca e i danni di quel giorno ad oggi sono ancora ben visibili lì dove la furia dell'acqua ha trascinato di tutto fango e detriti non sono stati ancora rimossi in via Dante Alighieri nella prosecuzione di via Lido e nella vicina area del Can Salamone la cui arteria principale continua ad essere chiusa al transito proprio dall'11 novembre scorso i cittadini che percorrono quotidianamente queste zone sono stanchi di continuare a trovarsi davanti agli occhi i segni di quel giorno e non si spiegano perché chi di dovere non abbia ancora ripulito queste aree si tratta in alcuni casi oltretutto soltanto di fango e di altri pochi resti di vegetazione passando da un segno dell'incuria dell'abbandono all'altro in via Pesco Pagano in Contrada Isabella e da mesi che i residenti segnalano la presenza di più di una buca lungo l'arteria segnalazioni che hanno portato alla collocazione delle solite transenne e non ad un intervento risolutivo transenne che come mostrano le riprese di un nostro operatore su sollecitazione dei cittadini che abitano lungo la strada sono esse stesse simbolo dell'abbandono una giace infatti sull'asfalto ormai da tempo si chiedono da queste parti quando chi di competenza intervenga finalmente a sistemare la perdita idrica prima e le condizioni della strada dopo in via Pesco Pagano l'ultima segnalazione della rubrica di oggi riguarda un servizio comunale come è noto per accedere all'ufficio tributi occorre che l'utenza richieda preventivamente un appuntamento un'accortezza legata al covid e all'affluenza dei cittadini ci segnalano che il centralino per le prenotazioni sia sempre in tilt e che sia impossibile riuscire a prenotarsi tramite il numero dedicato ricordiamo che collegandosi sul sito del comune di Sciacca è possibile richiedere un appuntamento online modalità però non proprio agevole ad esempio per gli anziani si spera dunque che il servizio venga migliorato anche i comuni sono alle prese con il caro bollette l'aumento sproporzionato dei costi energetici ha portato l'associazione dei comuni a lanciare un vero e proprio allarme i nostri bilanci non sono in grado di far fronte a questa situazione dichiara Francesco Cacciatore, sindaco di Santo Stefano Quisquina e presidente di Ali Sicilia ascoltiamolo un vero e proprio allarme quello lanciato dai sindaci il caro bollette non è un problema solo delle famiglie o delle aziende ma anche dei comuni i cui bilanci non sono in grado di sostenere gli aumentati costi energetici sindaci che hanno predisposto un ordine del giorno per chiedere al governo di intervenire abbiamo lanciato un allarme perché dopo l'emergenza sanitaria che ancora non è finita l'emergenza sociale ora abbiamo anche l'emergenza economica per la tenuta dei bilanci comunali e come sapete in questi mesi siamo alle prese con la relazione dei bilanci di previsione siamo davanti a dei costi insostenibili e insopportabili per quanto riguarda l'incremento dei costi energetici la pubblica illuminazione, l'apparicettore digitale, quindi le utenze di servizi in generale abbiamo costi esorbitanti con aumenti vertiginosi che oggi non ci permettono di far chiudere i bilanci io le parlo per il mio comune, per esempio abbiamo avuto una bolletta sull'energia elettrica di circa 54 mila euro in più rispetto al bilancio di previsione dello scorso anno quindi abbiamo delle difficoltà, abbiamo preparato un ordine del giorno che abbiamo presentato tutti i consigli comunali per chiedere al governo e al Parlamento di avviare d'urgenza un confronto con i clienti locali proprio al piede di determinare delle misure idonee a consentire la tenuta dei bilanci stessi, dei clienti locali. Un primo stanziamento è avvenuto, però voi lo ritenete insufficiente? Sì, assolutamente. Il primo provvedimento assunto dal governo con il cosiddetto decreto bollette obiettivamente ha dato una prima risposta alla richiesta dei comuni, delle città metropolitane e quant'altro, ma riteniamo assolutamente e lo ritengono i nostri uffici, i nostri responsabili di ragioneria che sono degli stanziamenti assolutamente insufficienti, che non riescono assolutamente a coprire questi squilibri che sono sempre più gravi e più corposi. Quale sarà il rischio? Quello di vedere le città al buio? Ma guardi, in queste ore anche simbolicamente tantissimi comuni, il mio, ma tantissimi comuni abbiamo partecipato a delle iniziative simboliche. Ieri sera per esempio abbiamo partecipato all'iniziativa Mi Illumino di meno, lo faremo anche lunedì con le scuole. Sicuramente già tanti comuni stanno accendendo la pubblica illuminazione a fasi alterne. Guardi, siamo nel 2022 e mi sento di dire che non è sinonimo di civiltà, non è possibile arrivare a così tanta determinazione. Allora io credo che il governo e il Parlamento si debbano impegnare per avviare d'urgenza questo confronto che dicevo poco fa e dare delle misure compensative ai comuni, altrimenti non saremo nelle condizioni assolutamente di chiudere i bilanci di previsione. A tre mesi dalla tragica esplosione dell'11 dicembre scorso a Ravanusa è pronto per essere approvato il progetto cantierabile di riqualificazione dell'area devastata e la realizzazione di nuovi alloggi in sostituzione di quelli danneggiati. Ad annunciarlo il sindaco di Ravanusa, Carmelo D'Angelo. Dopo l'approvazione, fa sapere il primo cittadino, il progetto sarà inviato al governo regionale e a quello nazionale per il finanziamento. Speriamo in tempi rapidi come rapido è stato il nostro ufficio tecnico. Lunedì intanto la sottosegretaria all'istruzione Barbara Floridia sarà a Ravanusa per partecipare a un evento organizzato dall'amministrazione comunale. Sanità, nuovo intervento dell'UGL Sicilia che questa volta chiede all'assessore regionale Ruggero Razza lo sblocco delle risorse per i centri sanitari privati. Necessario garantire la prestazione sanitaria specialistica e la retribuzione ai lavoratori, dichiara il sindacato. Sentiamo. I centri sanitari privati che erogano in Sicilia le prestazioni specialistiche sono in sofferenza a causa del ritardo delle risorse economiche loro riservate. È un paradosso considerato che in questi ultimi anni, contrassegnati dalla pandemia, queste strutture hanno supportato il sistema sanitario regionale, garantendo l'assistenza sanitaria, erogando il 75% delle prestazioni specialistiche contro il 25% effettuate dalle strutture pubbliche. A lanciare l'allarme l'UGL Sicilia, che attraverso il segretario regionale Giuseppe Messina e il segretario della Federazione OGL Salute, Carmelo Urzi, esprime grande preoccupazione per la tenuta dei livelli occupazionali in un comparto che occupa circa 10.000 lavoratori nelle circa 1.800 strutture accreditate nella regione siciliana, destinatari a poco meno di 300 milioni di euro, a fronte di oltre 800 milioni di euro stanziati per le strutture pubbliche. L'UGL chiede all'assessore razza di provvedere all'emanazione del decreto per l'assegnazione delle somme per gli anni 2020 e 2021 e per gli aggregati di spesa relativi agli anni 2022 e 2023, al fine di restituire serenità agli operatori e garantire il pagamento regolare delle retribuzioni al personale dipendente. Sul confronto per l'individuazione di un sistema di nuove e più eque premialità, dopo l'emanazione del decreto, l'UGL chiede un approfondimento per introdurre un possibile riconoscimento economico a tutte le strutture che utilizzano il contratto a tempo determinato o indeterminato per il proprio personale rispetto a coloro che fanno uso dello strumento del contratto atipico. Un sistema questo, prosegue la nota del sindacato, precario e privo di prospettiva futura per i dipendenti e per le loro famiglie. Per questo il sindacato dichiara di valutare positivamente l'avvio di un percorso costruttivo con gli uffici dell'assessorato regionale competente, volto ad individuare nuovi e più equi criteri per l'assegnazione di somme aggiuntive per il 2022-2023 e per l'abbattimento delle liste d'attesa, in linea con la proposta dell'assessore Razza, con riunioni da programmarsi dopo l'emanazione del decreto. 2 milioni di euro destinati per la prima volta esclusivamente ai convitti e agli educandati statali aventi sede in Sicilia. Gli ha stanziati l'assessorato regionale all'istruzione e formazione professionale. Le risorse sono indirizzate alla realizzazione di interventi di ristrutturazione, adeguamento funzionale, messa in sicurezza e riqualificazione di impianti locali scolastici e spazi esterni di aggregazione, ed è incluso anche l'eventuale acquisto di arredi. Convitti statali potranno presentare stanze di finanziamento a partire dalle ore 9 del 25 marzo e fine alle ore 18 dell'8 aprile, tramite la piattaforma messa a disposizione dalla regione siciliana. Si è insediato al Circolo di Cultura di Sciacca il nuovo Consiglio di Amministrazione. Presidente è stato eletto Giovanni Di Vita, Vicepresidente Marilu Crescenti. Il nuovo Consiglio di Amministrazione illustrerà a breve le proposte e le iniziative del Circolo di Cultura di Sciacca. Adesso la rubrica Il Libro del Giorno. Il giovane medico Norton Perina ritorna da una spedizione nella remota isola micronesiana di IWIW con una scoperta sconcertante. Ha davvero trovato una cura per la senescenza. Sembra che la carne di un'antica specie di tartaruga contenga la formula per la vita eterna. Perina prova scientificamente la sua tesi e guadagna fama e onori mondiali. Ban ben presto scopre che quelle proprietà miracolose hanno un prezzo terribile. E mentre le cose sfuggono rapidamente al suo controllo, i suoi stessi demoni prendono piede con conseguenze personali devastanti. Cosa pensare quando il genio si rivela un mostro? Il popolo degli alberi di Ania Ianagiara. Edito Feltrinelli. Siamo allo sport sconfitta interna per la Icaro Basket di Giovanni Monastero. Troppo forte la capolista del torneo pallacanestro Trapani. Prossima partita in trasferta contro la CUS Palermo. Calogero Parlapiano. Sconvitta casalinga per la Icaro Basket Officine Raneli di Sciacca. Superata nettamente per 50-112 dalla capolista pallacanestro Trapani. Match valevole per il campionato federale di Under-19, girone di ritorno. Troppo ampio infatti il divario tra la squadra di Giovanni Monastero e quella del vivaio della società di serie B. Oltre al divario tra le due formazioni, ai seccensi mancavano anche tanti giocatori importanti come Jibara Karam, Jibara Judd, Alessio Curreri, Pier Nicolò Armata e Giuseppe Bivona. I parziali raccontano di una partita piuttosto indirizzata fin dal principio. Questi i punteggi 8-33, 15-28, 13-22 e 14-29, con il parziale più ampio registrato proprio in avvio di incontro. Questi invece i marcatori tra i padroni di casa. Alla Sicilia Sport hanno realizzato canestri, Ragusa con 10 punti, Barone 8, Di Stefano il migliore con 22 e Gallo con 10. Nessun punta invece per Rizzo, Liotta, Pumilia e Vella Bianchettino. La prossima partita in calendario è fissata per lunedì sera in trasferta a Palermo contro la CUS. Altro incontro difficile per la Icaro Basket di Sciacca, posto che la formazione palermitana è seconda in classifica e che finora ha perso soltanto proprio contro la pallacanestro Trapani, capolista indiscussa. Il team di Giovanni Monastero spera di recuperare qualche elemento e di giocare meglio rispetto all'ultima partita contro la formazione trapanese. E con lo sport chiudiamo il nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione e a voi tutti un buon fine settimana.